319 trapianti effettuati in Emilia-Romagna, di cui oltre uno su tre ha interessato residenti fuori regione. 114 donatori utilizzati, su un totale di 253 potenziali segnalati dalle sedi donative, ovvero le terapie intensive, in aumento rispetto al 2017, quando le segnalazioni erano state 238. Calano contemporaneamente i pazienti in lista d'attesa, passati da 1143 a 1131. È positivo il bilancio che emerge dai dati 2018 del Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti Emilia-Romagna, lo snodo nevralgico della complessa macchina che si mette in moto in occasione di ogni donazione. Il centro, che assiede al Sant'Orsola di Bologna, coordina le varie fasi di donazione trapianto di organi e tessuti che in Emilia-Romagna è organizzato secondo il modello ABEN-SPO, che garantisce quindi il collegamento tra centri di alta specializzazione agli ospedali del territorio con le sedi donative, i centri trapianto, le sedi delle banche di tessuti e cellule in rete tra loro. Dei 319 trapianti effettuati, 183 sono stati di rene, di cui 35 da vivente, con un significativo incremento rispetto ai 21 del 2017, 17 trapianti di cuore, di cui uno pediatrico, 111 di fegato e 8 di polmone. Il 2018 è stato anche l'anno dell'implementazione dei programmi di donazione a cuore fermo, che in Emilia-Romagna si realizzano dal 2016. Sono stati 12 donatori segnalati, di cui 5 a Baggiovara-Modena, 4 a Cesena, 2 a Parma e 1 al Sant'Orsola di Bologna. Donazioni che hanno reso possibili 9 trapianti di fegato e 10 di rene. Di grande rilevanza anche l'attività di acquisizione dei tessuti. La banca del tessuto muscolo-scheletrico nel 2018 è stata impegnata in 65 prelievi con una raccolta complessiva di 922 segmenti osteotendinei. La donazione delle corne è aumentata, passando da 1.638 a 1.776, con 639 trapianti effettuati. I prelievi di tessuto cutaneo sono invece stati 56 e hanno permesso di effettuare al centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena interventi su 26 pazienti con oltre 46.000 cm2 di pelle trapiantata.